ben tornati al powerful finalmente ricominciano i nostri live insieme sono molto contento perché oggi parliamo di quanti giorni devo studiare per un esame e quali giorni sono necessari soprattutto in quante ore e quali ore sono quelle più importanti per avere una preparazione adeguata quindi per presentarsi all'esame senza particolare ansia senza particolari paturnie insomma per andare effettivamente con una buona preparazione che ci permette di prendere un bel voto ben arrivata Carolina ben arrivato suppongo Lucio Lu vero buonasera ben arrivati felicissimo di avervi qui scrivete da dove mi state ascoltando e se va tutto bene leggerò se va tutto bene dal punto di vista audio e video suppongo che mi sentiate e mi vediate bene quindi bando alle ciance iniziamo subito a parlare di quanti giorni devo studiare per un esame e in quali giorni iniziano arrivare anche i ciao dai gruppi ben arrivati a tutti allora ragazzi questo argomento come avrete capito del quanti e quali giorni è fondamentale perché c'è tanta come al solito c'è tanta disinformazione a riguardo cioè c'è chi dice che per preparare un esame ci vogliono sei mesi o che ne so che ci sono esami particolarmente grandi che richiedono veramente tantissimo tempo ci sono altre persone che sostengono invece sia possibile prepararsi in un esame in due tre quattro giorni non sono contrario a nessuna delle due possibilità è importante però specificare che tutti noi abbiamo una variabilità cioè siamo tutti molto diversi e che prepariamo gli esami in maniera molto differente per esame intendo un esame universitario può anche voler dire un'interrogazione importante un compito in classe importante su tutto il programma per esempio da recuperare a scuola può essere un concorso anche questi sono molto importanti e quindi è necessario capire quali sono i tempi perché perché se non ci facciamo delle illusioni pensiamo delle cose sbagliate crediamo di poter preparare quella prova chiameremo da questo momento parleremo di esami non solo parleremo di concorsi di scuola insomma di prova crediamo di poterli preparare in molto meno tempo o che sia necessario eh prepararli studiare eh fare dei procedimenti in molto molto più tempo rispetto a quello che è veramente necessario ma soprattutto all'interno della nostra giornata ammettiamo che noi abbiamo deciso eh coscientemente bene che abbiamo deciso in quanti giorni devo studiare per un esame qualunque e in quali giorni ma durante la giornata come faremo a capire esattamente quando preparare quell'esame quali sono le ore migliori vedremo in questa puntata in questo nostro powerful vedremo delle cose fighissime tra cui un paio di ricerche che sono relativamente nuove eppure sono per lo più sconosciute nell'ambiente del metodo di studio dei metodi di studio in generale dei metodi di apprendimento saluto con grande piacere Emiliano mi dispiace che possa fermarsi per poco ma eh sono contento che poi tutti i nostri powerful rimangono all'interno della nostra community e quindi eh possiamo rivederli tutte le volte che vogliamo e approfondire tutte le volte che vogliamo vi ricordo ti ricordo a te che mi stai ascoltando di iscriverti al canale YouTube di fare clic sulla campanella per ricevere tutti i nuovi materiali tutti i nuovi video due volte a settimana tutti i nuovi materiali vengono ricevuti li potrai ricevere anche iscrivendoti alla pagina memoria al gruppo metodi di studio memoria su Facebook e poi iscrivendoti alla newsletter oltre a poter leggere il mitico libro i tre mostri da uccidere all'esame che per festeggiare le prime duemila copie vendute abbiamo messo gratuitamente come sapete eh nel gratuitamente sul sito memoria.it le prime due copie sono state vendute su Amazon e ormai da nove mesi siamo primi nelle classifiche nelle classifiche come guide revisione uso allo studio e aiuto allo studio e poi eh psicologia per ragazzi quindi veramente una bomba sono felicissimo di aver costruito con voi questa meravigliosa community dicevo iscrivendoti iscrivendoti alla newsletter puoi leggere gratuitamente il libro i tre mostri da uccidere all'esame sulla piattaforma memoria oppure puoi scegliere di acquistarlo su Amazon e ricevi da subito il link al canale Telegram dove saprai in anticipo gli argomenti delle nuove dirette dei nostri nuovi powerful ce ne saranno di bellissimi al nuovo anno sono già tutti pronti e anche schedulati quindi abbiamo deciso anche in che date presto avrai l'elenco delle date e poi potrai partecipare in diretta ai nostri powerful proprio come sta facendo l'adorata Francesca ciao ben trovata Francesca sono certo dicevo che questo powerful sarà fighissimo e mentre vi saluto tutti vi do tutto il benvenuto vi chiedo vi chiedo di aiutarmi a diffondere i nostri powerful basta un like un cuoricino basta un pollicione su basta un vostro commento adoro i vostri commenti powerful senza i vostri commenti non sono belli quindi commentate da subito iniziate appunto a parte con like cuoricini pollicioni vi chiedo di commentare il più possibile appunto e di dirmi in questo momento dove siete e come state questa è una buona base di partenza per iniziare il nostro lavoro insieme leggo già qualche domanda per esempio ciao Giovanni mamma mia dovrei dare tre esami ma ho paura di non farcela studio per un paio d'ore e studio meno e meglio anche ma dare tre esami mi fa un po' paura beh ti capisco che dare tre esami insieme non so se contemporaneamente insomma comunque dare tre esami capisco che ti possa fare paura vediamo subito subito diciamo come ovviare a questa cosa allora io di mio dico sempre che l'ideale sarebbe di non preparare l'ideale sarebbe non preparare due tre esami contemporaneamente però è anche vero che alcuni di noi hanno bisogno di prepararli questi esami come in questo caso potrebbe essere per tanti motivi potrebbe essere perché uno deve recuperare un po' di esami passati vuole recuperare un po' di tempo perde la borsa di studio se non li fa insomma potrebbe essere per tantissimi motivi e quindi io voglio darvi una mano in questo ben arrivato fabio felicissimo quindi vedrete che bomba di cose che diremo insieme monica mi ha raccontato prima ecco sto controllando sul gruppo facebook e monica quella che mi dice che è spaventata la possibilità di dare tre esami contemporaneamente lo capisco ma adesso ci lavoriamo insieme e mi è parso anche di vedere maria che ci dice aspettiamo i tuoi consigli soprattutto in questo periodo che effettivamente è un po' un periodo complicato sono convinto tra l'altro che il nuovo orario di powerful vi piaccia lo vedo dalla partecipazione e quindi detto questo mentre mi scrivete come state dove state cosa state facendo e come vi sentite vi do di nuovo il bentornati al nostro powerful e vi faccio subito vedere mentre continuate a scrivere fatelo sempre mi raccomando pollicioni like e cuoricini vi faccio vedere di cosa parleremo oggi tempi quindi intanto l'argomento centrale quanti giorni devo studiare per l'esame quali giorni quali ore devo studiare per l'esame come lo calcolo come faccio a capire che ci sono alcuni momenti in cui è meglio di e altri momenti in cui è meglio no lo vedremo tra poco insieme vedremo tempi tecnici ragazzi attenzione mi piace sempre distinguermi da la massa ecco non mi piace parlare di stupidaggine tipo calcolo delle pagine calcolo delle ore non ne parleremo parleremo di cose molto serie non mi piace parlare di cicli di studio rigidi lo sapete abbiamo ormai all'interno della community che è una famiglia all'interno della community abbiamo eliminato questi discorsi e parliamo di qualcos'altro di più scientifico più serio in particolare parleremo di tempi tecnici e di pause secondo le ricerche più recenti poi parleremo di finestre di apprendimento in generale ma avremo una nuova formulazione che riguarda le finestre variabili di apprendimento poi parleremo di importantissime ricerche che parlano di prestazione ottimale nello studio nel lavoro in quello che ve pare vedremo se questa prestazione ottimale può essere migliorata agevolata attraverso la routine attraverso l'adozione di una routine o di quelli che vengono chiamati bullet journal non li amo particolarmente però la verità è che anche io ne faccio un certo tipo di uso di cui parleremo tra poco e che so che funziona e so che funziona per la maggior parte dei membri del community memoria e poi parleremo di quella che viene definita zona di sviluppo prossimale che è un argomento fighissimo tratto dalla psicologia dello sviluppo e dell'educazione e in particolare che abbiamo visto all'interno dell'apprendimento linguistico ma non basta solo l'apprendimento linguistico perché ricordiamo che il cervello eh per il cervello è tutto apprendimento qualunque cosa stia facendo quindi tra poco vedremo che figata è questa roba quindi ripetiamo quanti giorni devo studiare per un esame quali ore quali giorni devo studiare per un esame tempi tecnici e pause le finestre di apprendimento le finestre variabili di apprendimento la zona di prestazione ottimale le ricerche relative l'utilizzo per agevolarla di routine e bullet journal e l'argomento più bello di tutti a mio parere che è quello dello sviluppo prossimale iniziamo subito a parlare di questi argomenti che capisco che vi piacciono lo so già e quindi iniziamo allora intanto continuo ad accogliere le vostre domande qua c'è Rossana che parla col nome del figlio in realtà perché appare quello eh ben arrivata Rossana felicissimo di averti qui e Carolina ci dice che è a casa a Bologna benissimo Carolina quale modo migliore per occupare questa oretta insieme piccola novetà i nostri powerful dureranno esattamente per quanto possibile esattamente un'ora in in questo momento per esempio dalle diciotto alle diciannove quindi sfogatevi con tutte le domande in quest'ora non mi fate le domande alle diciannove meno tre perché poi ovviamente mi viene molto difficile rispondervi comunque cercherò di rispondere durante il powerful in diretta e poi ovviamente cercherò di rispondere anche nei momenti successivi scrivete qui sotto nei commenti perché io vi rispondo sempre magari a distanza di una settimana ma vi rispondo sempre col nuovo microfono dovrei anche evitare di sgolarmi durante i powerful adesso quando iniziamo a studiare per un esame la cosa peggiore che possiamo fare a mio parere ma sono aperto anche a degli scambi su questo argomento e pensare che il risultato maggiore si possa raggiungere la concentrazione maggiore o il voto maggiore possano essere raggiunti a botte di studio matto e disperatissimo cos'è sto studio matto e disperatissimo è molto carino il discorso di ecco certo tu vuoi studiare vuoi prepararti per un esame vuoi prepararti addirittura per più esami contemporaneamente facile devi scusate devi avere una super disciplina cioè devi di fronte a questo esame mastodontico devi essere super organizzato e studiare per 12 ore 10 ore 8 ore al giorno quando va bene quindi che cosa fai ti adoperi con tutta una serie di calcoli di strutture il bullet journal il calcolo delle pagine il calcolo delle ore il calcolo dei giorni che teoricamente ma solo teoricamente a parte ti tolgono un sacco di tempo e energia questo lo sappiamo ti danno scusate un orientamento di quante pagine è necessario fare per a volte ti danno anche una piccola spinta per continuare a ok poi però adotti potremmo dire un metodo di studio o dei un insieme di metodi di studio che non sono adattissimi a te e quindi ti ritrovi con un sovraccarico di lavoro pardon con un sovraccarico di lavoro che non ti permette in alcun modo di arrivare pronto o pronta alla prova adesso metti caso tu hai davanti a te due mesi hai due mesi a disposizione per questo esame buongiorno buonasera gabriella buonasera debora hai due mesi a disposizione per questo fighissimo esame mostruoso inizi a leggere rileggere sottolineare fare riassunti schemi mappe a un certo punto ti rendi conto che in tutti questi passaggi sei arrivata o arrivato a diciamo due settimane prima dell'esame che ancora non hai letteralmente iniziato a studiare o meglio magari iniziato a studiare però non hai passatemi il termine non hai memorizzato in questi ultimi in quest'ultimo mese e mezzo in cui dovevi non hai memorizzato ti ritrovi con l'acqua alla gola ok perché è successo questo questa è una cosa molto prevedibile che appartiene a qualunque tipo di preparazione dello studio piuttosto che la preparazione di esami universitari la preparazione delle interrogazioni non medite guardate quante volte c'è successo nella preparazione delle interrogazioni ed è dovuto principalmente a una diagramma che vi faccio vedere subito si chiama diagramma della performance arriva subito guardate che figata conoscere un diagramma del genere questa è il diagramma definito diagramma della performance ottimale so che un po scuro adesso vediamo che cosa significa posso provare anche a ingrandirlo un pochino vediamo cosa significa poi approfondire momento per momento vi lascio immaginare che quella verde è quella che viene definita la prestazione ottimale questa prestazione ottimale quando nasce quando la pressione che noi abbiamo nei confronti di quell'esame è equiparata al nostro al tempo che ci siamo dati e alla performance che sentiamo di avere in pratica sull'asse delle ordinate noi vediamo la performance mentre sulla base troviamo la pressione che noi abbiamo se la pressione capirete che se la pressione è troppo bassa la mia performance è deficitaria se la pressione è troppo alta la mia performance è deficitaria quando è che la mia performance cioè quando è che io riesco a studiare meglio memorizzare passatemi il termine meglio capire di più mi sento più positivo mi sento più forte mi sento anche più ottimista quando è che succede quando non mi metto una pressione eccessiva ma nemmeno troppo bassa non deve essere né troppo poco né troppo troppo deve essere una via di mezzo solo lì sia la performance ottimale tra poco vedremo che ci sono due magari qui non si vede benissimo ci sono due zone la prima viene definita di burnout la seconda di burnout quella di burnout è quando io mi annoio a studiare non c'ho voglia quella di burnout è quando mi brucio non ce la faccio più proprio non riesco guardate ragazzi è proprio quel momento in cui avviene il burnout è il momento di blocco ci sono anche altre due zone accanto alla pressione alla performance ottimale che vengono definite di strain e di comfort ve lo aumento un pochino così lo potete vedere lo strain è quella cosa un po' giallina che significa mamma mia non ce la faccio più sta cosa è terribile perdono scusate oggi sto male questa cosa è terribile dall'altro lato il comfort è quando mi sbrago non c'ho proprio voglia troviamo in mezzo oggi sto senza voce mi sta andando via la voce siamo in mezzo qua c'è scritto anche lui quando utilizzavo il calcolo delle pagine per giorno di studio e vedevo di avere davanti un sacco di tempo a disposizione tendevo a studiare poche pagine i primi giorni e a doverne fare 50 60 nei giorni successivi una cosa ragazzi guardate che grado di stress il grado di stress a cui uno si può sottoporre non lo sto criticando luce in questo momento è proprio la il grado di stress di ansia a cui una persona si può sottoporre non non riuscivo mai questo lo capisco non riuscivo mai a sostenere l'esame il giorno prefissato lucio ti chiedo dove per caso si è riconosciuto durante la preparazione dell'esame dove eri ti do un attimo per rispondere se diciamo nel giallo costantemente nel rosso o una via di mezzo seri verde vedo che qua qualcuno mi dice che ho giova a zona verde chi è simona ci dice che in zona verde sei fortunata simona sei l'unica che sta in zona verde tutti gli altri stanno in zona gialla arancione e rossa mi rendo conto in questo momento che questo diagramma può aiutarci anche nella visione dell'italia in questo momento ok quindi diciamo lucio ci dice io non ce la facevo poi alla fine a preparare a sostenere l'esame in tempi utili nonostante mi fossi forzato a lucio possiamo vedere appunto in che zona ti sei trovato per la maggior parte del tempo ragazzi scrivetemi scriveteci condividete dove vi trovate nella vostra vita cioè nella maggior parte dei casi dov'è che siete vi forzate alla zona gialla vi ritrovate nella zona rossa e quindi mollate quel cavolo d'esame state spesso in zona verde quindi vi mettete una pressione adeguata vi mettete nella zona verdina dello sbrago e quindi vabbè tanto c'è un sacco di tempo cioè voglio dire non è detto ragazzi che dobbiamo essere sempre sempre in impressione tipo esami in cinque giorni eh esami in cinque giorni è rosso esami in dieci giorni è giallino sapete quando ci diciamo tante volte eh sì dai mamma mia stavolta faccio uno sforzo e lo preparo in qualche modo ecco quello sforzo cioè mamma mia dai ci provo a darlo quello è giallo ed è una specie di sforzo appunto di strain che ci porta se molto prolungato al burnout a bruciarci l'ideale sarebbe avere un tempo utile che è stato calcolato lo vedremo insieme intorno ai venti venticinque giorni lo saprete a breve dalle prossime ricerche dei prossimi video quindi ottimo chi va a momenti anche questo è interessante simona che andiamo a momenti non è che sempre sempre siamo in una zona o nell'altra però in linea di massima per esempio lucio ci dice tra la gialla e la rossa e sì lucio sei stato spesso tra la gialla e la rossa e questo ti ha portato a non sostenere gli esami nei tempi prestabiliti bastava abbassare un po' la zona passatemi sto termine continuate a scrivere in che zona state o in che zona stavate io vivo perennemente in comfort ci dice maria maria che significa in quanti tempi in quanti giorni prepari un esame quanto tempo ti dai per studiare magari un pochino di meno è certo che se tu stabilisci che quell'esame lo dai fra tre mesi forse magari quando me sei libera un pochettino la testa da tutti i casini che c'ho si aspetta dai magari lascio passare le vacanze tutte le vacanze pure quelle di pasqua credo che sia normale che ti ritrovi in zona gialla o in zona verdina voglio dire o che proprio da noi e non fai c'è chi dice io sono ci sono ci dice simona momenti più profiqui per carità e momenti meno profiqui e in quei momenti meno profiqui non mi viene manco voglia di aprire il libro quei momenti meno profiqui sono dei momenti di pausa simona che ci servono per fermarci un po' il tanto che ci serve per riattivare quello che viene definito il ciclo dell'attenzione vi faccio vedere in realtà che questo modello che stiamo vedendo è stato tratto quindi questo qui devo dire la verità è un po' semplicistico è carino perché è molto chiaro no lo ripetiamo c'è una pressione bassa ma annoio una pressione moderata ma mi sbrago un po' ma non mi annoio una pressione tra il moderato e l'alto guardate tra il moderato e l'alto è tanto è una forte pressione e una prestazione ottimale ho una pressione altissima qua possiamo quantificare con esame in dieci giorni va bene esame in sette giorni esame in dieci giorni quella settimana ho una pressione altissima che può funzionare per un esame per due esami indovinate che succede quando la pressione è troppo elevata è troppo prolungata si va in burnout ci si brucia è quello che è successo la maggior parte delle persone che stabiliscono che per tutta la vita dovranno fare esami in dieci giorni basta io ho deciso che per tutto il periodo universitario do quattro esami al mese tre esami al mese quattro esami al mese sto a posto e poi mi godo le vacanze ecco esattamente a quello si va incontro il burnout avviene con una pressione troppo elevata e troppo prolungata maria ci dice proprio mi annoio o non faccio o faccio poco maria bisogna stringere un pochino i tempi te lo ripeto fra i venti e venticinque giorni per sostenere un esame non ti dare quattro mesi deve essere una cosa che come vedremo va a stimolare quello che viene definito la zona di sviluppo prossimo e lo vediamo tra poco carolina ci dice da quando faccio parte del gruppo memovia sono felice di averti carolina un'allieva del memovia che ha bellissimi risultati tra l'altro come tutti gli allievi del corso memovia origin sono passata dalla zona russa carolina specifica ci se era la zona rossa da un lato perché la zona rossa è anche quella del bass dal bassissima pressione ma azzardo che fosse la zona rossa dell'eccessiva pressione a quella giallo verde giallo verde significa che ogni tanto pochetto te stressi però linea di massima è una performance ottimale che viene tra l'altro carolina rispecchiata dai tuoi meravigliosi risultati carolina sempre ci dice prima calcolavo le pagine vedete come si va facilmente in strain mi portava ansia e quindi procrastinavo il burnout e quindi ora studio in base al non più alle in base alle ore nel senso non in base alle ore tipo mamma mia devo studiare 73 ore per preparare l'esame ora studio in base alle ore di competenza tra poco vedremo le finestre di apprendimento intende carolina e mi dice grazie grazie a te carolina meravigliosa che metti in pratica ogni cosa che facciamo insieme dora buonasera anch'io dei giorni meno profiqui suppongo i giorni giallo verdi chiamiamolo così in quel caso mi fermo e aspetto giorni con maggior concentrazione brava dora ottimo si chiamano finestre di apprendimento e a volte queste finestre di apprendimento non sono oratie ma sono giornaliere brava adesso arriviamo a parlare anche del fatto per esempio dobbiamo rimanere coi piedi per terra non si può sempre arrivare all'ultimo che uno muore meno male col memo via un attimo studio con piacere allora questo simona dobbiamo specificarlo non tutti hanno il memo via a disposizione nel senso che qualcuno legge il libro tre mostri e uccide l'esame qualcuno acquista il memo via origin molti no perché no perché non gli interessa perché non vogliono fare questo investimento perché scelgono di elaborare il proprio metodo di studio personalissimo senza alcun aiuto e quindi va bene anche così anche per voi cioè per voi che fate questa scelta facciamo questo powerful per capire che magari nonostante tutto c'è che quel calcolo sulla performance ottimale sulla pressione va fatto anche relazione un po alle nostre caratteristiche individuali un po all'esame una cosa studiare dito privato una cosa studiare informatica capito cioè voglio dire informatica nel senso quell'esame propedeutico che c'è sempre di informatica in tutte le facoltà da sei da quattro crediti ho visto anche da quattro crediti una cosa studiare quello una cosa studiare l'esame da dodici crediti quattordici crediti ho sentito addirittura sedici crediti è un'altra cosa quindi in base a questo scegliamo la pressione da darci i tempi da darci carolina ci dice a volte mi sono messo in troppa pressione abbiamo gabriele gabriella pardon che ci dice zona già nel zona gialla e nell'avvicinarsi del tempo sto con l'ansia te capisco gabriella perché guardate chi si pone questi obiettivi realistici sta me sta spesso in zona gialla che significa che è lì lì per arrivare al burnout lucio ci dice una cosa interessante se il tempo ideale di circa venticinque giorni si deve studiare un manuale di mille pagine non vorrebbe in automatico calcolare le pagine per i giorni spero di essermi fatto capire certo che ti sei fatto capire il problema e che mille pagine non sono tutte uguali nella disgraziatissima ipotesi che uno dica vabbè c'ho venticinque giorni e quindi che faccio sai te dico divido mille per venticinque anzi ti è ci vado pure largo divido mille per venti no mille di suoi due faccio cinquanta pagine al giorno sto a posto gli ultimi cinque giorni me li prendo per ripassare ragazzi fila benissimo il discorso solo che quelle meravigliose pagine cinquanta che dobbiamo studiare ogni santo giorno a volte sono fattibili in un giorno a volte sono assolutamente non fattibili il dramma brutto perché questo quello era il dramma il dramma brutto è che quando sono non fattibili io entro da una fase di optimal performance cioè è molto facile da vedere voi iniziate a studiare per un esame mille pagine cinquanta pagine al giorno primo giorno fate cinquanta pagine di cui ce stanno trenta di introduzione e venti di prefazione vabbè dai per oggi e cinquanta di oggi l'ho fatta è fantastico bravo secondo giorno capitolo uno relativamente semplice cinquanta pagine vai ce la posso fare cinquanta ieri e cinquanta oggi sono un drago ce la faccio giorno tre ne faccio dodici di pagine perché disgraziatamente arrivo a quel capitolone maledetto grosso brutto succoso difficilissimo difficilissimo che col cavolo che faccio cinquanta pagine al giorno quindi passo dritto dritto come vedete qua scusate dall'altra parte passo dritto dritto alla zona di pressione eccessiva nella zona di pressione eccessiva io ci devo stare visto che abbiamo stabilito fate finta no venti giorni venticinque giorni io ce devo sta altri venti giorni te voglio vedere in zona di sviluppo in in zona di pressione eccessiva per altri venti giorni scleri non ce la puoi fare e infatti arriviamo al punto che ci bruciamo il burnout rosso che vedete lì in fondo e quindi non continuiamo e rimandiamo l'esame lo abbandoniamo diciamo mamma mia fantastico carolina ci dice mamma mia giovanni hai riassunto benissimo come studiavo prima devo dirvi la verità ragazzi queste ricerche non è che l'ho fatta io io le porto a voi le divulgo in qualche modo anche se la parola non mi piace tantissimo le le condivido ecco mi piacete più le condivido con voi ma non è che le ho fatte io queste ricerche adesso vedremo di chi è questa meravigliosa ricerca lucio ci dice è sbagliato quello di calcolare le pagine lo so ma come si fa incanalare lo studio di un esame molto grande in un tempo così ristretto e infatti lucio prima che cosa ho detto facciamo enorme attenzione ho detto la media della preparazione di un esame e 20 25 giorni ma occhio a non fare calcoli e calcoletti senza considerare la dimensione dell'esame il metodo di studio che uso e il momento storico psicologico mentale quello che te pare che sto attraversando più il tipo di professore la qualità del libro che il professore consiglia per l'esame insomma le variabili sono moltissime e da un lato non vi consiglio da andare a fare la ricerca delle che ne so spesso ci sono dei siti che dicono beh certo qua noi ti scriviamo questione mi pare che si chiami noi ti scriviamo tutte le domande che vengono più fatte fatte più di frequente negli esami universitari me le schiaffo mi possono dare un orientamento ma io non posso pensare solo alle domande devo pensare al la complessità dell'esame se non mi preparo solo le domandine come la designata terza media e mi ritrovo che il professore ovviamente mi chiede un altra cosa all'esame fa un culo così quindi ragazzi queste ovviamente ma pare che insomma dai ci siamo su queste cose bisogna però non dico come dicevo calcolare le pagine non dico cercare tutte le domandine più fatte però orientarsi nella preparazione dell'esame in base alla dimensione dell'esame stesso lucio mica è detto che uno debba per forza farlo in 20 giorni a volte metti caso io non lo so tu hai detto il tempo è di 25 giorni per studiare un manuale di mille pagine no magari per studiare quel manuale di mille pagine con tutti gli approfondimenti con tutte le cose che ci stanno da studiare ce ne vogliono 50 dei giorni non è detto che debbano essere per forza 25 la media è 25 per qualche esame possono essere per esempio un mese e mezzo anatomia patologica mi dicono due mesi ce vogliono diritto privato due mesi un mese e mezzo è inutile che ci veniamo a raccontare che in cinque giorni io preparo diritto privato e non scherziamo se fa in un mese ce vuole un certo tempo tempi tecnici quindi la però vedete che nella pressione eccessiva significa allora la pressione è troppo quella dello strain quella gialla significa lo faccio in 20 giorni in questo caso la pressione eccessiva che è impossibile mi porta al burnout significa se non a questo all'altro esame significa lo preparo in cinque giorni in sei giorni in sette giorni in otto giorni lo sbrago significa vabbè mamma mia diritto privato enorme lo preparo in quattro mesi no quattro mesi no quattro mesi è un quarto un terzo di anno cioè non esageriamo lo sbrago della noia e lo preparo in sei mesi cioè questo rosso da questa parte dalla mia parte quello è lo sbrago tipo ma che me frega a me di studiare ma che mi interessa ma sai che ti dico vabbè quando lo do lo do quante volte l'abbiamo detto ma sì vabbè ho iniziato un po' a studiarlo ho letto un po' il libro ma quando prevedi di darlo boh non so quando c'è l'appello fra nel duemila e ventitré dovrei riuscire a darlo cioè eh diamo la giusta valutazione a tutte le cose io ho appena letto io ormai sto nella pace dei sensi l'ansia mia abbandonata simona fantastica vado secondo i miei ritmi e finisco comunque e senza esaurirmi perché dovete sapere mo apro una una piccola parentesi che il memoria origin è basato proprio in parte tra le tante cose tra le tante ricerche scientifiche di carattere psicologico su cui è basato in particolare della psicologia dell'apprendimento il memoria origin è basato in parte anche su questa bellissima ricerca sulla pressione performance ottimale mentre continuate a scrivere e a fare domande io voglio condividere con voi di chi è questo lavoro meraviglioso sul rapporto con diciamo tra la performance ottimale e il grado di pressione che ci mettiamo qui possiamo vedere che si chiamano gli text on low è un modello a u invertito lo vediamo più nel dettaglio perché più carino diciamo un pochettino più meglio spiegato vediamo una un grado di performance una performance debole una performance elevata noi tendiamo alla performance elevata da cosa deriva la l'aumento della performance deriva dal fatto che la pressione notate che sotto non c'è scritto pressure non c'è scritto pressione nel modello originale yark stodson c'è scritto erauge allora la parola erauge in inglese è molto difficile tradurre in italiano significa attivazione a me se parole un po' vuote non mi piacciono tantissimo però dai cerchiamo di capirci attivazione quindi l'attivazione quando io mi sento vai mamma mia ce la posso fare ok vedete che anche qui la curva invertita vede al centro il verde con una performance ottimale che significa un grado di stimolazione ottimale ci sono ai due estremi il giallo e il rosso nel giallo improduttivo non so abbastanza stressato non c'ho abbastanza peper culo per dar l'esame dall'altra parte sono ugualmente improduttivo perché sono troppo stressato c'ho troppo peper culo per dar l'esame c'ho troppa fretta c'ho troppa paura c'ho troppo tutto mi sto forzando troppo coi tempi metodi tipo che ne so faccio i riassunti credo di riuscire a dare l'esame in dieci giorni che ragazzi per carità per alcuni esami è anche fattibile però per farlo leggo rileggo faccio le letture preliminari raccolgo le domande del professore faccio le letture preliminari reggo l'indice poi inizio a scrivere tutto quello che mi capita in testa per rispondere alle possibili domande del professore poi faccio i riassunti poi faccio gli schemi per elaborare bene poi faccio le mappe per ricordare bene poi inizio a ripetere ossessivamente in modo da impratichirmi perché voglio fare una bella figura dati al professore dieci giorni quando dieci notti e dieci giorni al limite quindi attenzione eh troppo stress troppa ansia bloccano la mia performance poco stress poca ansia diciamolo così mi fanno un po' sbragare mi fanno sentire un po' annoiato un po' addormentato interessante però all'interno della legge del modello jerk stodson ci sono quelle due freccione rosse una che va verso la prestazione ottimale la performance ottimale anche il grado di stimolazione ottimale è quella russa che va giù verso lo stress l'ansia e il blocco non tanto per quella che va giù perché capisco capiamo che all'aumento al diminuire pardon della anzi no al diminuire della produttività cioè l'aumentare dello stress delle pressioni pressioni dei genitori pressione del mondo esterno pressione temporale pressione dei metodi schifosi che uso mano a mano la mia anzi aumenta il mio stress aumenta e la mia performance nella preparazione dell'esame quindi eh in soldoni e cose che mi ricordo mentre studio per l'esame so di meno ok e studio male ma la cosa bellissima è l'aumento c'è un momento in cui noi possiamo fare il volano cioè possiamo aumentare gradualmente il grado di stress che significa ogni giorno non ogni settimana ogni giorno andare in una zona di sviluppo prossimale tra poco vedremo che cosa significa un pochino più avanti cioè metterci un pochino pochino ogni giorno più di pressione perché questo fa gradualmente aumentare il grado di attenzione e di interesse fino alla performance ottimale ve lo ridico a parte la freccia che va in giù che è scontata cioè più mi metto pressione barra mi mettono pressione più mi casino e mi blocco e dall'altro lato in salita più mi stress un pochino di più e più ottengo la prestazione ottimale lucio ci dice in privato per esempio io mi sono sbragato troppo probabilmente era verso il giammi il giallino greco beh ovviamente per 2000 versi di greco ma la vedo un po difficile ci vogliono mesi e una si scoraggia ma pure se scoraggia se ce ne metti troppi o meglio ti prefiggi di metterci troppi o troppo pochi ok ci siamo interessante no basta fine stop tagliato tutto ecco perché non mi stresso più simona molto lavoro in meno brava sarebbe anche l'ideale per quanto siamo anche qui nell'equilibrio studio lavoro sarebbe ideale bilanciare le tue cose quindi come lo ottengo cioè in quanti giorni l'abbiamo detto ma come faccio in quanti giorni abbiamo detto che vanno calcolati in base alla difficoltà eccetera eccetera che non devono essere né troppi né troppo pochi che se sono troppi sono nel lato giallo se sono troppo pochi sono nel lato rosso deve essere una via di mezzo nel punto verde stabilite voi in base agli esami io vi suggerisco una media di 20 25 giorni a esame universitario cosa che però raga se è un concorso pubblico no sei mesi il te no magari ma beh sei mesi manca quattro mesi va bene test di medicina sei mesi non ci provate a correre troppo se no andiamo tutti in rosso e non ce la facciamo ok in quel tempo in cui stiamo studiando cioè in questi giorni quando esatta cioè come esattamente studio come organizzo la mia giornata dipende anche qui il mio suggerimento mentre saluto giulia che ci ha raggiunto ciao giulia ben arrivata il mio suggerimento è quello di lavorare come sapete per finestre di apprendimento cioè di lavorare nei giorni e negli orari in cui il cervello è più attivo e più capace di ricordare di studiare di assimilare di apprendere e vai però qualcuno qua io lo so già se volete ve lo potete pure scrivere tanto lo so che avete sulla punta della lingua anzi sulla punta delle dita qualcuno qua stava dicendo sì vabbè certo è che uno studia solo quando c'ha voglia eh sì certo e quando me laureo dipende questo vuol dire che non c'hai ma voglia di studiare quindi inizierei a chiedermi il perché ti sei iscritto a quella facoltà dove non c'hai ma voglia di studiare però altri effettivamente a parte quelli che non c'hanno voglia di studiare però altri effettivamente dicono io devo lavorare e studiare per esempio qui ci sono tanti di voi che lavorano e studiano che studiano contemporaneamente uno non può pensare di laurearsi se studia e lavora e c'ha che ne so un'ora la mattina un'ora la sera per studia e in quelle ore non c'ha manco voglia di studiare potrebbe essere molto difficile arrivare alla preparazione di un esame infatti ho sempre detto finestre di apprendimento sono quei momenti della giornata in cui io sono più disponibile a prendere ma se in quei momenti della giornata io non riesco a studiare dovrò educare il mio cervello alle finestre di apprendimento adatte in modo che per esempio se io ho un'oretta dalle 6 alle 7 anche se io fra le 6 e le 7 non sono sveglio devo fare dieci cose che mi permetteranno di essere vigile costante nelle dalle 6 alle 7 di mattina perché quello è il tempo che ho chiudere completamente quindi avere un confine di studio in cui io dentro quello sto e non mi disturbate e in quel momento sono produttivo e faccio i procedimenti giusti andatevi a guardare le dirette in cui parliamo che ce ne sono un paio già in cui parliamo di finestre di apprendimento sono nella parte che riguarda i tempi di studio dell'organizzazione del tempo nello studio fermo restando le finestre di apprendimento la cosa più interessante qui è non autodistruggersi durante la giornata per carità però molti si organizzano come abbiamo detto tante volte in maniera maniacale la maniera maniacale significa avere dei momenti specifici rigidissimi tra l'altro per studiare secondo una scaletta malata che non è realizzabile o non è seguibile per un lungo periodo di tempo anziché questo studio così maniacale io vi suggerisco e l'ho fatto anche all'interno di un video che trovate sul canale vi suggerisco un organizzazione dell'agenda chiamiamola l'agenda se la volete scrivere giornaliera in cui date priorità ad alcune cose la mattina per esempio se potete studiare la mattina alcune cose le fate nel pomeriggio quindi dovete e in questo dovete essere rigorosi dovete sapere in base a quando normalmente funzionate meglio quando fare quell'attività per esempio e questo va bene anche se fate riassuti e fate gli schemi per esempio se io la mattina sono molto forte nello studio riesco a me mamma mia passate me sto termine a memorizzare a studiare bene ok allora io so che la mattina dalle 6 alle 8 si studia ripetete ma va bene che ripetete fate quello che vi pare la mattina dalle 6 alle 8 si ripete non è che la mattina dalle 6 alle 8 decido cosa fare vabbè oggi faccio un po' dei riassuti la mattina dalle 6 alle 8 si ripete perché perché io funziono ripetendo quindi nella mia scala di priorità ripetere e in cima e quindi lo devo fare la mattina quando la finestra di apprendimento aperta dalle 6 alle 8 vi è chiaro quindi ogni attività del vostro metodo di studio non mi interessa qual è va bene tutto in questa fase in questa sede va bene tutto ogni attività deve essere prioritarizzata devo decidere qual è più importante per me per la preparazione dell'esame metti caso che sto riassunti io studio che riassunti e funziona bene la sera la sera dalle 8 alle 10 di sera se fanno i riassunti eh ma io devo vedere Netflix non lo vedi Netflix dalle 8 alle 10 di sera se fanno i riassunti vuoi far quelli devi far quelli in quell'orario lì in quell'orario lì punto non ci sono altre possibilità quindi rigidità in questo senso bisogna essere rigidi quindi priorità quali sono le cose veramente importanti vanno fatte nelle finestre di apprendimento cioè i momenti in cui io sono più fresco e funziono meglio le altre anche vanno fatte in momenti della giornata in cui io funziono bene a fare quelle cose quindi prendete un foglio prendi un foglio e scrivi questa attività è priorità 1 questa attività priorità 2 questa attività priorità 3 e questa attività priorità 4 non lo so sto inventando priorità 1 quando funziona bene tale ora da tale ore a tale ora vi suggerisco finestra di apprendimento di due ore non fatete più perché vi bollite il cervello in questo ora funziona bene quindi inizio a unire attività con priorità a cioè alta priorità in preciso orario tutti i giorni qualcuno starà chiedendo ma pure sabato e domenica se necessario pure sabato e domenica si chiama disequilibrio temporaneo non si può pensare di laurearsi studiare come matti lavorare otto ore al giorno dedicarsi alla famiglia e farsi anche le festicciole a naballà bisogna fa una scelta a un certo punto quindi è possibile che anche sabato e domenica per alcuni periodi in cui io mi metto passate messo altro termine l'obiettivo di superare l'esame e vabbè anche quel sabato e quella domenica per quel mese studierò non morirò in quel mese e il mese successivo mi sbracherò quanto mi pare mi farò le mie uscite quanto mi pare ma per quel mese ho deciso di fare quella cosa veramente tosta se io funziono bene sabato e domenica sono i per fare abbiamo detto inventando abbiamo detto che io sabato e domenica funziona bene dalle sei alle otto o dalle otto alle dieci per fare i riassunti pure sabato e domenica dalle otto e dieci dalle otto alle dieci faccio i riassunti quindi priorità e slot di tempo di due ore su attività singole e focalizzate possibilmente senza distrazioni ok fantastico la prima cosa fate quindi il matching mi viene sta parolaccia il matching tra la priorità dell'attività e due ore la priorità altre due ore sto ipotizzando ho detto inventando quattro attività a b c d come priorità o uno due tre quattro e due ore due ore due ore due ore poi non tutti noi abbiamo otto ore al giorno da dedicare allo studio va bene quindi ci siamo capiti mentre saluto elisabetta sentiamo anche che purtroppo all'università lucio i sabati le domeniche non esistono o quasi mai bellissimo carolina quindi se io funziono bene nove undici e sedici diciotto quindi è la tua priorità studiare in quella fascia oraria sì carolina occhio però adesso carolina tu fai il memovia va bene immaginiamo che tu riesci benissimo a studiare senza il memovia facciamo finta va bene che tu studi benissimo solo leggendo e ripetendo vuol dire che tu dalle nove alle undici riesci a leggere e ripetere va bene allora la priorità uno nove undici che è quella che ti piace il più è il momento in cui funzioni più legge ripeti e sedici diciotto no sedici diciotto io di solito funziono bene come cosa due qual è la cosa due è quella di fare degli schemini che mi permettono di riassumere quello che ho letto e ripetuto la mattina va bene allora tu tutti i giorni nove undici leggi ripeti priorità uno slot con livello di attenzione cioè finestra di apprendimento uno categoria uno chiamiamola così sedici sedici diciotto priorità due slot con di due ore con livello di priorità di attenzione due finestra di apprendimento due ok due due a pezzo ma ci siamo capiti quindi facciamo questo piccolo matching tra i momenti vi dico la mia esperienza io la mattina mi alzo e dico adesso due ore faccio queste attività che mi servono per un po' riequilibrarmi emotivamente e prepararmi alla giornata poi per due ore tendo a scrivere libri perché in quel momento la mia priorità è scrivere i libri da condividere con voi ragazzi i libri non li scrivo alle otto di sera sono pollito alle otto di sera so che il mio momento di scrittura è in linea di massima dalle nove alle undici se salto quel momento di scrittura mi incasino spesso l'ottimizzazione dei video su youtube in modo che funzionino bene che arrivino a più persone possibile per me funziona bene diciamo intorno alle undici mezzogiorno fino alle due lo faccio volentieri lo sentite lo fate volentieri in quell'orario quindi sentite quando fate volentieri un'attività piuttosto che l'altra e fate attenzione alle priorità delle attività importantissimo quello che stiamo dicendo simona hai ragione in questo periodo di restrizioni ci sta aiutando in qualche modo il fatto che stiamo a casa e quindi abbiamo più tempo per noi in teoria però netflix pure ci sta aiutando comunque il fatto di vedere delle serie delle cose ci alleggerisce un pochino francesco come si tiene la concentrazione senza avere altri pensieri non si tiene in questo modo francesco attenzione francesco per priorità non si intende riuscire a concentrarti ma attività pratiche non riuscire a concentrarti cioè quelli che dicono prima la mia priorità è nel metodo di studio che uso la prima cosa che faccio è concentrarmi poi leggo no leggere è un'attività quindi è attiva la concentrazione è un elemento di base che in teoria ci dovrebbe essere quando studiamo per rispondere alla tua domanda francesco come si fa a concentrarsi senza avere altri pensieri generalmente si scrivono oppure si fanno delle tecniche di rilassamento di meditazione oppure si elaborano oppure si analizzano ci sono dei powerful e dei video sul canale apposta su questo argomento quindi ti invito a andare a guardarli perché a mio parere sono molto belli mi hanno detto che sono stati molto utili a tantissime persone perché abbiamo detto tra l'altro l'utilizzo dei bullet journal o dei tempi avete visto che abbiamo parlato di questi bullet journal vagamente abbiamo detto faccio delle attività e poi è come dire le depenno ogni giorno depenno queste attività ed è un'organizzazione giornaliera come diciamo da tanto tempo le pause le faccio sì le pause sono contemplate per questo state attenti nel calcolo a mettere insieme sempre alle attività che fate delle lunghe pause tra un'attività grossa di due ore e l'altra se reggete due ore di concentrazione focalizzata guardate se fate due ore di studio a palla su qualcosa vi assicuro che siete bolliti avete bisogno di un'ora di pausa infatti io prima vi stavo dicendo che di solito scrivo dalle nove alle undici e poi faccio l'ottimizzazione per esempio dei video da mezzogiorno alle due e infatti quell'ora e mezzo mi sbrago e mi calmo un attimo perché altrimenti non lo reggo il ritmo in questa è una cosa molto importante se potete prendetevi delle lunghe pause tra un'attività singola focalizzata grazie a te francesco forte e l'altra questa è un'altra cosa importante bullet journal detto pause detto altra cosa molto importante abbiamo detto quanto farne quando farle abbiamo detto dei tempi abbiamo detto di come scegliere i tempi in anticipo e di quando scegliere di studiare di come studiare durante la giornata e di piazzare delle attività appunto all'interno della giornata in base alla loro priorità tutte queste cose dovete sapere che sono trattate anche all'interno del libro i tre mostri da uccidere l'esame e sono un'altra delle basi importanti del corso memoria origin potete tra l'altro approfondire molte di queste cose con altri video sul canale aggiungiamo una cosa che tutto questo funziona ancora meglio quando noi abbiamo una viene definita zona di sviluppo prossimale questo va a toccare sembra non entrarci molto coi tempi la zona di sviluppo prossimale è una cosa che vi faccio vedere subito al solito e vi dico sembra non essere legata ai tempi di studio cosa c'entra la zona di sviluppo prossimale coi tempi di studio la zona di sviluppo prossimale è un'elaborazione che è stata fatta nella psicologia dell'educazione per dire ci sono delle attività in cui noi possiamo lavorare imparare senza particolare assistenza da parte degli altri poi c'è la zona di sviluppo prossimale in cui impariamo molto più velocemente imitando gli altri o con una spintarella da parte degli altri e poi c'è una zona che viene definita out of reach cioè proprio non ce la posso fare notate quanto anche se il diagramma è diverso qua sono tre palle là era una curva però notate quanto questa zona di sviluppo prossimale è molto simile alla zona di prima della performance ottimale questo significa che la performance ottimale ecco Ileana sapevo che avrei stimolato sapevo ne sono felice è ben arrivata anch'io ad rovigoschi e credo che sia di grande aiuto anche nello studio dicevo notà notiamo che la zona di sviluppo prossimale è molto simile alla zona verde della performance ottimale perché perché la performance ottimale si basava sulla pressione un grado di pressione molto forte ci portava fuori misura e non ce la facevamo una zona di pressione non troppo forte ci portava a lavoricchiare però senza troppo impegno ma la zona di sviluppo prossimale è quella che ci spinge a fare sempre di più e guardate caso che in mezzo come la zona di una pressione ottimale perché perché a volte questa pressione come abbiamo detto può venire dal punto di vista temporale la spinta oddio devo ho deciso di preparare l'esame in un mese anche se ce ne vogliono due a volte può essere ho deciso di preparare questo esame anche se il professore mi fa veramente tanta tanta paura a volte può essere ho deciso di preparare questo esame in con l'utilizzo di un metodo di studio completamente nuovo capita molto spesso agli studenti del corso memoria origin mamma mia come faccio a preparare questo esame che devo pure imparare un nuovo metodo di studio quindi quella è una zona di pressione può essere una pressione temporale una pressione dovuta ai metodi la pressione dovuta agli stimoli da parte del professore ma in questo caso la zona di sviluppo prossimale ci porta una pressione molto forte dovuta al confronto con l'altro quindi le cose che stiamo dicendo paradossalmente il grado di pressione i tempi le ore i giorni eccetera valgono non solo se studiamo da soli ma a volte può aiutarci addirittura a studiare con qualcuno che ne sa un pochino più di noi o che ci pressa un po lo dico per esempio a tanti di voi che mi hanno detto io mi sbrago molto nello studio mi demotivo mi prendo troppi tempi quello è il caso in cui di solito si spingono le persone spingo le persone a studiare con qualcuno o a condividere una community che può essere una community su telegram una community su facebook virtuale o può essere reale in cui c'è qualcuno che ti pungola il culo ogni tanto ti dà una spintarella o ti dice ti fa vedere che lui per esempio è in grado di preparare un esame di fisica con enorme facilità e tu invece arranchi un pochino ma cerchi di stare al suo passo quindi la pressione ottimale può arrivare anche dal confronto con gli altri questo ci insegna una cosa che non è tutto organizzazione non è tutto tempi quanto studio le ore che sono importantissime ste cose e l'organizzazione la priorità il bullet journal eccetera le finestre di apprendimento fighissimo tutto ne abbiamo parlato ragazzi è tutto fighissimo ma a volte tutte queste cose sono passatemi il termine autistiche cioè me le faccio per conto mio sto sempre da solo a sbattermi la capoccia boom 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 a cercare dei modi per migliorare per darmi la pressione eccetera la pressione nel senso per spingermi un po a fare eccetera e invece magari questa pressione può venire da uno scambio da un confronto l'azione con qualcuno una meraviglia se non ce la faccio da solo mi confronto un po con gli altri mi faccio dare una mano nelle ore in cui va bene a loro nei giorni in cui va bene a loro e questo mi darà da un lato la pressione ottimale che mi porterà a avere una performance ottimale e dall'altro mi porterà in quella che vicoschi come ha riconosciuto iliana è la stabilito essere la zona di sviluppo prossimale in cui impariamo grazie alla relazione con gli altri e detto questo mentre vediamo che carolina per fortuna usa netflix vedersi le serie grazie insomma le usa per gratificarsi e sono contento che dica grazie a memovia vedo super risultati e quindi dopo due ore di studio mi vedo pure una puntata me lo posso permettere bravissima carolina carolina io ringrazio te per il bellissimo contributo che dai e stai dando oggi ringrazio tutti voi per il contributo che state dando avete dato questo powerful meraviglioso io lo trovo bellissimo perché sono tutti argomenti che come sapete nel powerful mi affascinano sempre rivediamo insieme di cosa abbiamo parlato come sapete tutti gli argomenti vengono utilizzati vengono ampliati nei qui sotto nei commenti e poi in video singoli e poi sulle mega guide del gruppo memovia rivediamo insieme di cosa abbiamo parlato oggi grazie anche a voi che avete contribuito abbiamo parlato di quanti giorni studiare per l'esame quanti giorni quali giorni in quale ore come organizzarsi in quei momenti tempi tecnici eventuali pause lunghe finestre variabili di apprendimento la prima una delle prime cose con cui abbiamo parlato in realtà la prima è stata la prestazione ottimale il grado di prestazione ottimale in base alla pressione o alle rauge routine e bullet journal sono utili sì a patto che si parli di priorità delle attività e poi del bellissimo scusate c'è il microfono e qui sotto del bellissimo argomento dello sviluppo prossimale che è una cosa che amo molto insieme ovviamente al discorso sulla prestazione ottimale credo che vi sia piaciuto a me è è piaciuto tantissimo stare con voi oggi e quindi vi saluto vi do un bacio grande grazie a voi per i vostri consigli per i vostri interventi grazie a tutti che avete partecipato qualcuno è arrivato ora in ritardo e manuel massono felice che tu possa che il power full rimane sulla pagina quindi puoi guardarlo quando vuoi oppure su youtube ricordate di iscrivervi al canale fare clic sulla campanella per ricevere tutti i nuovi aggiornamenti di iscrivervi sul sito memovia.it alla newsletter per avere accesso al gruppo telegram dove avrete le notifiche dei nuovi materiali quando escono in particolare dove potrete partecipare direttamente anzi in diretta ai power full live che avremo una volta a settimana con degli ospiti fantastici anche continuate a interagire sulla pagina memovia e sul gruppo metodi di studio memovia e continuate a scrivere qui sotto nei commenti perché io adoro rispondere ai vostri commenti a proposito spero che questa power full vi abbia dato veramente una grossa spinta nella realizzazione dei vostri sogni universitari e di studio e di carriera quello che volete sono certo che riusciremo fortissimi e ricordate di scrivere qui sotto nei commenti perché io rispondo sempre scrivetemi se volete quello che fate voi per studiare come vi organizzate durante la giornata so che questo è un argomento che vi piace molto e scrivetemi se avete consigli per i prossimi argomenti da trattare grazie ancora a tutti siamo stati quasi puntuali con il nostro powerful vi abbraccio tutti vi do un bacio e complimenti ci vediamo la prossima settimana con il nostro nuovo powerful grazie a tutti e a presto